In questa nuova stagione presentiamo un filo veramente affondante che quando l'abbiamo messo sulle nostre canne, abbiamo fatto le prime prove, siamo rimasti tutti veramente basenti. Il XPS Sinking Plus, un filo di colorazione abbastanza scura, tendendo il marrone, un pochino opaco, altissimo grado di affondamento che è perfetto sia per la pesca feeder ma soprattutto per la pesca inglese o dove c'è veramente necessità che il filo penetri l'acqua molto velocemente, sia in corrente che in acqua lenta, e un altissimo carico di rottura. Quando, come vi dicevo, abbiamo messo sulle nostre canne, siamo rimasti veramente tutti entusiasti perché abbiamo trovato un filo con una bassissima memoria alla bobinatura, per cui naturalmente quando è sciolto nell'acqua, anche in diametri abbastanza importanti, nel 20, nel 22, nel 25, non ci sono le classiche spire che magari bisogna tensionarle due o tre volte prima di andare in pesca. Oppure magari nel combattimento con dei pesci veramente molto forti, come delle carpe estive oppure magari dei barbi veramente poderosi presi nel fiume che ci impegnano veramente a tutta la tazzatura. Siamo rimasti veramente basiti e noi naturalmente, avendo una grandissima cura nella creazione di questi monofil qui, non potevamo che inserire nella nostra gamma. XPS Sinking Plus vi sorprenderà da tutti i dati che vi ho detto perché io sono un pescatore e come voi vi renderete conto di quello che sta vicendo.